Nello scorso video abbiamo affrontato il discorso di moto in più dimensioni Abbiamo visto che quando un corpo si muove in più dimensioni Il tutto sta nel scomporre lungo ogni dimensione il proprio moto Quindi se ad esempio abbiamo un moto lungo i tre assi Basterà scomporre questo moto nei vari assi e verificare cosa succede In questa lezione andremo a studiare uno dei moti più importanti all'interno della fisica Stiamo parlando del moto parabolico, anche detto moto del proiettile Studiamo quindi il moto di un punto P lanciato dall'origine o con velocità V con 0 Questa velocità V con 0 forma un angolo alfa con l'asse delle ascisse Quindi la situazione è la seguente Qui abbiamo il sistema di assi cartesiani Qui abbiamo l'asse X Qui abbiamo l'asse Y Qui abbiamo il nostro punto che viene sparato con una certa velocità V con 0 E questo è l'angolo alfa che forma la velocità con l'asse LX La domanda è perché qui ho disegnato soltanto due assi Perché questo moto si muove in due dimensioni e non in tre? Beh, possiamo pensarla in questo modo Intanto una dimensione la cosa è caratterizzata? Beh, da un punto di vista prettamente semplice Possiamo dire che una dimensione rappresenta una vera e propria direzione Cosa voglio dire? Voglio dire che destra e sinistra rappresenta una dimensione Avanti e indietro rappresenta un'altra dimensione Sopra e sotto rappresenta un'altra dimensione Voi sapete benissimo, da un punto di vista pratico Che se hai lanciato un corpo davanti a voi Allora questo corpo cosa andrà a fare? Può andare avanti o indietro Può andare semplicemente sopra e sotto Ma non potrà mai andare a destra e a sinistra Quindi che significa? Significa semplicemente che destra e sinistra non esiste Perché il corpo non si può muovere lungo quella dimensione Ora una volta lanciato il corpo Questo rappresenta una caduta libera Quindi il corpo si muove con un'accelerazione costante Che è sempre quella di gravità In questo caso però essendo in due dimensioni G non è più uno scalare ma è un vettore Praticamente quello che fa il corpo è una vera e propria parabola Quindi arriva ad una certa altezza e poi inizia a cadere Ovviamente in ogni punto il corpo è soggetto all'accelerazione di gravità Che è costante In ogni punto questa G è diretta verticalmente verso il basso E il modulo di G è rappresentato a 9,81 metri al secondo al quadrato E si indica direttamente con G senza il segno di vettore Questo perché noi sappiamo la direzione è verso di G Quindi noi possiamo dire banalmente che G è uguale a meno G lungo G Che è uguale a meno 9,81 lungo G Questa scrittura implica che 9,81 è il modulo di G Meno G sta a significare che è contrario rispetto al sistema di riferimento che ho preso io Ora scomponiamo i vettori G e V con 0 lungo gli assi G lo abbiamo già scomposto Adesso dobbiamo scomporre V con 0 Allora quando andiamo a scomporre V con 0 il discorso è leggermente più complesso Allora qui abbiamo il nostro asse X Qui abbiamo il nostro asse Y Qui abbiamo il nostro V con 0 Ora che cosa succede? Dalla trigonometria dovreste già sapere che questo rappresenta un triangolo rettangolo E nei triangoli rettangoli dalla trigonometria sappiamo che V con 0 X che è la componente X del vettore V con 0 Non è nient'altro che uguale all'ipotenusa che è V con 0 Per il coseno dell'angolo adiacente Quindi coseno di α Se vogliamo invece il lato opposto Cioè questo qui in corrispondenza all'angolo α Allora possiamo scrivere che V con 0 Y è uguale a V con 0 seno dell'angolo opposto Quindi la V con 0 la possiamo scrivere come V con 0 X coseno Anzi scriviamo direttamente V con 0 X per I Più V con 0 Y lungo J E noi sappiamo che V con 0 X è V con 0 coseno di α E sappiamo che V con 0 Y in realtà è V con 0 seno di α Vanno scomposte le componenti lungo l'asse X e lungo l'asse Y Appunto sfruttando l'angolo α Come si vede appunto in figura Ve lo sto rispiegando Questo rappresenta un triangolo rettangolo E si possono applicare queste formule Che dovreste già conoscere all'interno della trigonometria Ovviamente qui a posto di V con 0 X mettete questo A posto di V con 0 Y inserite questo Ora possiamo come detto un attimo fa A trattare il problema separatamente su ogni asse Questo è dovuto al fatto che se andiamo a calcolare la derivata e la posizione Stiamo facendo nient'altro che calcolare le derivate delle singole componenti Quindi possiamo analizzare i moti singolarmente Allora vediamo lungo l'asse X Allora lungo l'asse X che cosa succede? Noi sappiamo che l'accelerazione da considerare è AX Ma sappiamo che AX in questo caso è 0 Questo perché l'unica accelerazione presente è quella di gravità Ma quella di gravità è tutta lungo Y Quindi non ha componenti lungo X Possiamo quindi scrivere la seguente cosa AX uguale a 0 e questo implica moto rettilineo uniforme Quindi significa X di T uguale a X con 0 più V con 0 X per T E poi possiamo scrivere che VX al tempo T è uguale a V con 0 X Ovviamente qui dobbiamo inserire soltanto la velocità lungo l'asse X Perché stiamo esaminando l'asse X E questa rappresenta l'equazione perché ovviamente l'asse X non serve a nulla Ci dice soltanto che lungo tutto il moto la velocità rimane costante ed è uguale a quell'iniziale Questa formula è una delle tre formule che dovremo utilizzare per risolvere il moto parabolico Abbiamo scoperto quindi che lungo l'asse X il moto è rettilineo uniforme Cosa succede invece lungo l'asse Y? Beh, lungo l'asse Y il moto è rettilineo uniformemente accelerato Questo perché lungo l'asse Y è presente l'accelerazione di gravità Quindi cosa possiamo scrivere? Dobbiamo utilizzare le equazioni del moto rettilineo uniformemente accelerato Quindi Y al tempo T è uguale a Y con 0 più V con 0 Y per T più un mezzo AT al quadrato E poi possiamo scrivere semplicemente che la VY al tempo T Cioè la velocità lungo Y istante per istante è uguale a V con 0 Y più un mezzo AT Un mezzo, no, non so che ho scritto Più A per T ovviamente perché se facciamo la derivata viene AT Ora senza riscrivere di nuovo il tutto Noi sappiamo che l'accelerazione lungo Y banalmente è uguale a meno G Quindi cosa possiamo scrivere? Che qui dobbiamo mettere un segno meno e anche qui Al posto di A mettiamo praticamente meno G Quindi meno un mezzo GT al quadrato meno G per T Questa è l'altra coppia di equazioni che dobbiamo utilizzare Quindi in sostanza, in sostanza per risolvere un moto parabolico Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo praticamente utilizzare questa formula che è la numero 1 Questa formula che è la numero 2 Questa formula che è la numero 3 Dobbiamo utilizzare questo sistema di tre equazioni Ricordando il fatto che lungo l'asse X abbiamo un moto rettilineo uniforme Lungo l'asse Y abbiamo un moto rettilineo uniformemente accelerato Adesso passiamo un attimo all'asse Z Noi sappiamo per logica che lungo l'asse Z non c'è moto Però ovviamente dobbiamo dimostrarlo Allora noi partiamo dal fatto che AZ è sicuramente pari a 0 Perché l'unica accelerazione abbiamo detto essere solo lungo Y Quindi se è uguale a 0 significa che siamo di fronte ad un moto rettilineo uniforme Quindi cosa possiamo scrivere? Possiamo scrivere che VZ di T è uguale a una VZ0 Cioè sarebbe la velocità iniziale lungo l'asse Z E poi possiamo scrivere che Z di T è uguale a Z0 più V con 0 Z per T Ora noi cosa sappiamo però? Beh sappiamo che la componente Z della velocità non esiste Perché la velocità si può scomporre semplicemente sull'asse X e sull'asse Y Quindi che significa? Significa che la sua velocità iniziale è pari a 0 E inoltre il punto, la componente Z è 0 Cioè la componente iniziale dell'asse Z è anche se a 0 Quindi stiamo dicendo che non c'è moto perché l'accelerazione è 0 La velocità è 0 e la sua posizione iniziale è 0 Quindi il corpo come abbiamo già stabilito all'inizio si muove lungo il piano XY Cosa andremo a fare adesso con questo moto parabolico? Ovviamente le quantità che si possono calcolare su un moto parabolico sono tante Dipende dall'esercizio Ne andremo a calcolare quelle principali Poi troverete degli esercizi svolti sotto in descrizione Perché ho già una playlist relativa all'esercizio 0 fisica 1 Dove troverete molti esercizi sul moto parabolico In questa lezione andremo a calcolare alcune cose Partiamo dal tempo che impiega il corpo ad arrivare alla massima altezza Come già ho detto prima Questo corpo cosa fa? Si muove vero in orizzontale ma si muove anche in verticale Quindi arriverà ad un certo punto ad esempio qui Dopodiché si ferma e quindi inizia a cadere questo E la sua altezza massima Noi dobbiamo trovare prima il tempo che impiega il corpo ad arrivare alla massima altezza E poi troviamo questa altezza massima Quando il corpo Qui mettiamo un separatore Quando il corpo arriva alla sua massima altezza Allora significa che Si è fermato Ma se si è fermato Implica che la velocità è pari a 0 Però attenzione La velocità lungo quale asse? Lungo l'asse y? Lungo l'asse x? O entrambi? Ovviamente L'unica velocità che si può azzerare è quella lungo y Perché? Perché solo lungo y esiste un'accelerazione Che è quella che vi fa cambiare la velocità Lungo l'asse x non è possibile variare la velocità Perché quella rimane costante Quindi significa che esiste un tempo t con 1 Che è il tempo che il corpo impiega ad arrivare alla massima altezza Tale che la sua velocità lungo y Calcolata a quel tempo è pari a 0 Perché non sale più E ovviamente l'unica cosa che vi fa salire o scendere un corpo Comunque vi fa muovere la sua posizione è proprio la velocità Adesso abbiamo visto che siamo sull'asse y Dobbiamo utilizzare l'equazione della velocità del motore tilino uniformemente accelerato Quindi Vy al tempo t con 1 Che è pari a 0 E' uguale a V con 0 y Menos g Per t con 1 Ovviamente da questo ci possiamo ricavare banalmente t con 1 Come facciamo? Portiamo v con 0 y dall'altra parte Dividiamo tutto per g E cambiamo disegno E quindi abbiamo meno g per t1 uguale a meno v con 0 y E quindi otteniamo t con 1 pari a che cosa? V con 0 y diviso g Questa formula la troverete abbastanza frequentemente Ovviamente v con 0 y è uguale a v con 0 seno di affa diviso g Questa è una formula che troverete abbastanza frequentemente Però ovviamente conviene non impararla e ricordare i passaggi Semplicemente quando arriva alla massima altezza Il corpo si è fermato quindi la sua velocità lungo y è pari a 0 Adesso andiamo a calcolare l'altezza massima Allora l'altezza massima in realtà è un giochino Perché visto che parliamo di altezza Ovviamente ci stiamo riferendo alla posizione a cui si trova il corpo a quel tempo Ma la posizione è lunga quale asse? Ovviamente è lungo l'asse y Quindi l'altezza massima è nient'altro che la y Calcolata al tempo t con 1 Perché al tempo t con 1? Perché al tempo t con 1 ci si riferisce al tempo di altezza massima Questo è uguale a y con 0 Visto che siamo in un modo effettivamente accelerato Più v con 0 seno di alfa per t con 1 Perché ovviamente questa è la v con 0 y Meno un mezzo g t con 1 al quadrato Questo cosa implica? Implica y al tempo t con 1 che è pari all'altezza massima Uguale a che cosa? Allora y con 0 per il sistema di riferimento che ho preso io è pari a 0 Perché ovviamente io ho preso il sistema di riferimento dove parte il corpo Quindi qui c'è 0 Quindi x con 0 e y con 0 all'inizio sono 0 Ok quindi v con 0 ci viene praticamente v con 0 seno di alfa Per t con 1 Ma noi sappiamo che t con 1 è pari a questo L'abbiamo trovato Quindi andiamo a sostituirlo Lo facciamo da un punto di vista letterale Quindi v con 0 seno di alfa diviso g Meno un mezzo g t con 1 al quadrato Quindi v con 0 al quadrato sen quadro di alfa diviso g al quadrato Il quadrato e g si semplificano E qui che cosa abbiamo? Allora semplicemente abbiamo y al tempo t con 1 Che è uguale all'altezza massima E' uguale a che cosa? Allora v con 0 seno di alfa Per v con 0 seno di alfa Vi va semplicemente v con 0 quadro sen quadro di alfa diviso g Che rimane così com'è Meno un mezzo V con 0 al quadrato sen quadro di alfa diviso g Allora qui che cosa stiamo facendo? Stiamo sottraendo una quantità a mezza quantità Perché ovviamente queste sono uguali Le parti letterali sono uguali Differiscono solo per il coefficiente Una quantità meno mezza quantità ovviamente vi fornisce mezza quantità Quindi significa che l'altezza massima è uguale a che cosa? È uguale a un mezzo V con 0 sen quadro di alfa diviso g Anche questa formula la troverete abbastanza frequentemente Da notare una cosa molto importante Questa rappresenta l'altezza a cui arriva al corpo Prima di fermarsi e poi riscendere Quindi dell'altezza massima Per ottenere il valore massimo dell'altezza massima Cosa significa valore massimo dell'altezza massima? Significa a quanto Come bisogna lanciare il corpo Per arrivare all'altezza massima possibile Bisogna lanciare il corpo in alto In verticale Cioè l'angolo alfa deve essere di 90 gradi Allora perché? Perché ovviamente voi dovreste sapere Che il seno di 90 Il seno di 90 può assumere Anzi il seno di alfa scusate Può assumere come valore massimo Quindi il seno di alfa Il suo massimo valore è pari ad 1 Per ottenere il valore 1 Dobbiamo sostituire 90 gradi Infatti il seno di 90 fa 1 Quindi significa che se voi dovete lanciare Il corpo Dovete lanciare un corpo in alto E volete farlo arrivare ad un'altezza più alta possibile Dovete lanciarlo in verticale Questa cosa è abbastanza ovvia Anche perché se voi lo lanciate a 90 gradi Succede semplicemente che la velocità Va tutta lungo Y Quindi ovviamente si può ottenere la massima altezza Ora andiamo a calcolare come ultima cosa di questo video Poi ci vediamo alla seconda parte Nel prossimo video E calcoliamo il modulo della velocità Nell'istante T con 1 Allora modulo della velocità Cosa significa? La velocità è un vettore Quindi dobbiamo trovare il modulo del vettore Quindi modulo di V A che cosa è uguale? Dovresti già sapere Che il modulo di un vettore è pari alle sue componenti al quadrato sommate sotto radice Quindi abbiamo Vx al quadrato più Vy al quadrato Inutile scrivere Vz al quadrato perché è 0 Ora la domanda è Vx all'istante T con 1 a quanto è uguale? Vy all'istante T con 1 a quanto è uguale? Allora Vy all'istante T con 1 cioè al tempo che il corpo è arrivato alla massima altezza ovviamente è 0 Perché se è arrivato alla massima altezza il corpo non sale più La Vx al tempo T con 1 è banale perché abbiamo detto che la velocità lungo x rimane sempre costante perché è un motorettilineo uniforme Quindi significa che questo è uguale a V con 0 x Quindi semplicemente abbiamo radice quadrata di V con 0 x al quadrato Che ovviamente vi fornisce il modulo di V con 0 x O comunque la possiamo chiamare anche Vx La potete chiamare come volete Quindi questo è uguale a V con 0 coseno di alfa Lo state ben attenti a questo passaggio perché io qui ho scritto modulo di V con 0 x e non V con 0 x direttamente Perché quando avete sotto radice quadrata un valore che voi non sapete a quanto è uguale Cioè avete una lettera come in questo caso Siete obbligati a utilizzare il modulo perché da una radice quadrata può uscire soltanto un numero positivo Quindi per sicurezza tra virgolette dovete inserire il valore assoluto Ovviamente se è positivo di partenza inutile scrivere questo valore assoluto Nel prossimo video andremo a ricavare il tempo che impiega il corpo ad arrivare a terra E andremo a ricavare anche la gittata Con questo video abbiamo terminato Come al solito se vi è piaciuto metti un mi piace, commenta, condividi E ci vediamo al prossimo video